Oltre il 7% in più del tasso di occupazione delle camere e degli alberghi aretini nel mese di aprile è quasi il 13% nel mese di marzo rispetto all'anno precedente. Segno negativo invece a maggio e a febbraio. Questi alcuni dei dati raccolti dalla ConfCommercio aretina riguardo al turismo nel comune di Arezzo. Quest'anno è stato un semestre che è stato dietro alle tariffe e al tasso di occupazione del 2016. Quindi c'è stata una lavissima flessione a febbraio, una flessione del tasso di occupazione, un'esplosione a marzo grazie alla compresenza in contemporanea del Toscana Tour e della fiera del legno Italia Energia. Anche aprile con il fatto che la Pasqua quest'anno è venuta a ridosso dei ponti di primavera devo dire che è stata una buona primavera. C'è un accenno di ripresa anche per quanto riguarda le tariffe. Chi sono i turisti che vengono da Arezzo? Arezzo ha un 50% di turismi italiani, di turisti italiani e un altro 50% di turisti stranieri. Di questo 50% un 80% è comunitario. Ad alzare le sorti degli alberghi aretini durante il corso dell'anno sono stati principalmente gli eventi sportivi che nel corso degli ultimi mesi sono riusciti a far registrare anche il tutto esaurito. Ginnastica, maratona, piuttosto che tutte le varie gare podistiche che vengono fatte in città, gli speciali di ginnastica ritmica e le arti marziali hanno in questi anni portato tantissime... Se io calcolo gli eventi, il numero di camere vendute, hanno portato molto di più tutto lo sport in senso lato piuttosto che Piaudola Francesca. Cosa ha bisogno della città? Di tante motivazioni per trattenere il turista perché la città oltre a essere conosciuta e di gestire bene questi flussi. Il turismo è diventato sempre di più un turismo motivazionale e la sola presenza di un attrattore storico-artistico non è più sufficiente.